Ciao a tutti amici di tuttandroid.net, oggi recensiamo l'Alcatel OneTouch 997D, si tratta di un interessante smartphone appartenente alla fascia media che fa parte di quel piano di Alcatel per innalzare il livello del brand e per approdare su nuovi mercati. Nello specifico parliamo di uno smartphone che ha esordito appena pochi mesi fa ad un prezzo indicativo di 299€ e che ha una dotazione hardware sicuramente insolita per il brand cinese. Parliamo infatti di uno smartphone con processore dual core, si tratta di un processore MediaTek, nella specifica LMT6577, opera a 1 GHz ed è accoppiato a 512 MB di RAM, ha una GPU PowerVR della serie 5 e ha uno schermo da 4,3 pollici con risoluzione 800 x 480. Il sistema operativo come potete vedere è Android 4, nella specifica è la versione 4.0.3 Ice Cream Sandwich, per cui una delle ultime versioni. Il dispositivo come vedete è abbastanza grande ma non così tanto da risultare scomodo nella mano. Le dimensioni sono sicuramente un fattore importante ma Alcatel ha pensato a rendere il telefono veramente ergonomico. Partiamo proprio dalle caratteristiche visibili, delle caratteristiche fisiche del dispositivo. Come già detto troviamo uno schermo da 4,3 pollici con i tasti soft touch, per cui non abbiamo tasti fisici qui sotto ma qui sotto abbiamo il led di notifica. Abbiamo poi lo speaker, la fotocamera anteriore da 0,3 megapixel, sul lato sinistro non troviamo niente, il lato inferiore ospita la porta micro usb e il microfono, il lato destro ospita il bilanciere del volume cromato, mentre come vedete la cornice esterna è in plastica rigida ed è nera. Il lato superiore ospita il tasto on off e il jack da 3,5 mm per le cuffie. Posteriormente troviamo questa cover che è in plastica leggermente gommata che è soffice al tatto per cui rende abbastanza semplice e piacevole l'impugnatura. Poi troviamo la fotocamera da 8 megapixel che registra video a 720p insieme al flash led e all'altoparlante posteriore con tecnologia SRS. Qui invece troviamo un microfono ulteriore per la rimozione del rumore ambientale. Come vedete inferiormente troviamo questa zigrinatura che rende ancora più confortevole e solida l'impugnatura, mentre invece un aspetto di design è la cover posteriore che qua sopra è molto sottile ma va mano a mano a dispessirsi fino a coprire tutto quanto il lato inferiore. Proviamo proprio a rimuovere la cover posteriore. Troviamo la batteria che è da 1800 mAh, rimovibile chiaramente, lo slot per la micro SD e qui i due slot per le SIM. Si tratta di due slot sovrapposti per cui le SIM vanno una sopra l'altra. All'omento non ce ne sono inserite perché le stiamo usando su altri telefoni. si tratta di uno smartphone dual SIM come il nome 77D suggerisce e la possibilità di utilizzare le due SIM contemporaneamente è ridotta alla possibilità di usare la SIM principale in modalità 3G e la SIM secondaria in modalità 2G per cui una in Edge. Sicuramente il dispositivo è interessante anche perché è come dicevo prima il primo approccio di Alcatel al mondo del dual core per cui il primo approccio di Alcatel verso un mercato di fascia un po' più alta rispetto a quelli che sono i target tradizionali della casa cinese. Il dispositivo offre una buona fluidità e il sistema operativo non è stato quasi per nulla personalizzato da Alcatel. Troviamo solo questi temi di icone che sono un po' differenti da quelli classici di Android e un sacco di applicazioni in più. Facendo un breve elenco troviamo l'applicazione 100% giochi che porta direttamente al sito di Gameloft dove possiamo scaricare applicazioni. Acquever.com per il meteo, aggiornamenti sistema non serve a spiegare, aiuto Alcatel, Androlib Wallpapers che permette di scaricare dei wallpaper da una biblioteca online, Antivirus, Asphalt 6, Assassin's Creed, Barcode Scanner, Bebbled che è un gioco in cui bisogna lanciare palline e farne scoppiare le altre, BioWallet Signature che è una specie di, come si può dire, cassaforte per i papidati, Blockbreaker 3, un altro gioco, poi troviamo Chrome preinstallato, Cloud Backup e Condivisione Multimedia che servono, vabbè Cloud Backup non sto a spiegarvi, è abbastanza evidente, Condivisione Multimedia è il DLNA, Currency Converter che serve per convertire le valute, Easy Installer per installare da APK non provenienti dal market, File Manager, Flipper, poi troviamo Immissione Touchpal, l'installazione guidata e il wizard del primo video, Layer, poi troviamo MyTracks, Note, Shopping List, Office, troviamo la radio, Platinum Solo di Terra 3, poi troviamo RingDroid per ritagliare i file audio e ottenere delle suonerie, Shazam, Sweet Dreams che serve per accendere e spegnere la parte telefonica ad orari prestability, Tasks che serve per creare liste di cose da fare, Tethering, non sto a spiegarvelo, e Twitter, dunque una bellissima torcia LED che come vedete fa abbastanza luce. Che dire, altre cose, la personalizzazione di Alcatel apporta anche questa piacevole aggiunta dei quick settings nella parte alta della tecnica delle notifiche, troviamo nello specifico, luminosità, time out dello schermo, rotazione automatica, wifi, bluetooth, GPS, connessione dati, modalità aereo e dopodiché le impostazioni del volume della suoneria. Troviamo Generale per avere il volume alto, silenzioso, riunione, esterno. Una cosa che personalmente non ho apprezzato molto è questo suono che si sente tutte le volte che si tocca un elemento o un qualche cosa. Per carità è una scelta di Alcatel, ad alcuni può piacere, ad altri può non piacere, io personalmente non l'ho apprezzata particolarmente. Passando un attimo a quello che può fare questo dispositivo, apriamo Dead Trigger, che come vedete non impiega poi molto tempo per caricare. Eccolo qui, va bene, se noi prendiamo ad esempio andiamo nell'arena, apriamone uno a caso. Allora, Dead Trigger in questo momento è stato impostato per avere i dettagli massimi, per cui per spremere al massimo l'hardware. Alcuni dispositivi di fascia media e medio-bassa non riescono a reggere il gioco con dettagli alti. Come vedete però abbiamo un ottimo livello di dettaglio e anche le particelle vaganti, che sono più tipiche di smartphone di fascia alta. come vedete la reattività è ottima e si riesce a giocare senza problemi. la fluidità è, come vedete, direi abbastanza buona. battene via tu, via, c'ho, brutto o cattivo? E comunque insomma è soddisfacente anche dal punto di vista dei giochi. passando ad un aspetto, direi, chiave degli smartphone, ma che spesso viene sottovalutato dai produttori, con questo dispositivo si possono fare un sacco di cose, ma uno dei suoi punti deboli è la batteria. per testare al meglio la durata della batteria abbiamo provato a lasciare il dispositivo in modalità aereo, per cui con la parte telefonica spenta, ma con il wifi attivo per controllare le email e il telefono ha espresso una durata di appena tre giorni. perchè abbiamo fatto questo test? perchè questo misura quali siano le effettive prestazioni del dispositivo, come dire, con carico zero. per cui lasciando il dispositivo senza un carico d'uso eccessivo e senza usare la parte telefonica, siamo andati a vedere quali sono i consumi di base del dispositivo anche quando non è in uso la parte telefonica e i consumi sono abbastanza alti. che cosa vuol dire questo? che quando attiviamo anche la parte telefonica non ci possiamo certo aspettare una durata enorme, infatti possiamo aspettarci una durata di una giornata intera quando utilizziamo solamente la sim principale in 3G e un po' meno di una giornata se utilizziamo entrambe le sim. il dispositivo resta comunque non dico campione di durata ma sicuramente tra i dual sim con comparto hardware, dual core, 512mb di ram eccetera eccetera è sicuramente una buona durata. passiamo un attimo a quelle che sono le prestazioni di navigazione visto che in fondo è una delle cose principali, come vedete questa è la versione mobile di tutto android, la fluidità è ottima, il caricamento è abbastanza veloce, proviamo ad accedere al sito desktop. ok richiedi desktop come vedete anche la velocità di caricamento, chiaramente in questo momento siamo su wifi però è decisamente buona e anche il pinch to zoom reagisce molto molto bene. in generale la qualità della navigazione su questo dispositivo è molto elevata e offre veramente una buona esperienza. parliamo un attimo di quelli che sono i lati negativi di questo smartphone, vi ho citato prima le applicazioni preinstallate, tutte cose belle ma secondo me sono toppe, lasciare la possibilità agli utenti di scaricare le applicazioni che vogliono e soprattutto di poter rimuovere invece quelle che non vogliono dovrebbe essere una priorità e per quanto molte applicazioni siano utili, penso ad esempio a BioWallet Signature, piuttosto che a Note, piuttosto che a Shopping List, piuttosto che Ring Droid, piuttosto che Sweet Dreams eccetera eccetera, trovo che altre siano assolutamente inutili nello specifico 100% giochi è abbastanza inutile, a Qweather.com è inutile, Asphalt 6 e Assassin's Creed non sono versioni complete quindi sono inutili. Insomma, apprezzabile lo sforzo di Alcatel di inserire applicazioni anche perché alla fine credo che non tutti gli utenti di questo smartphone scarichino applicazioni con costanza per cui fornirgli già un parco applicazioni variegato è una buona cosa, ma onestamente trovo che 40 applicazioni preinstallate siano un po' eccessive. Per quanto riguarda gli aggiornamenti invece purtroppo Alcatel ha fatto sapere che al momento non sono previsti piani per l'aggiornamento di questo telefono, motivo per cui non vedrà mai probabilmente Android 4.1 Jelly Bean. Direi che possiamo concludere qui questa video recensione, vi invitiamo a leggere anche la recensione completa sul nostro sito. Per il momento è tutto da Riccardo per tuttandroid.net Grazie a tutti. Grazie a tutti.